Uniti sotto il segno del PPE. E questa è la strada che una parte del PDL Salentino vorrebbe intraprendere. Basta con i partiti carismatici e lideristi. L'onorevole Baldassare chiede una visione più allargata e non crede nella rinascita attraverso un ritorno a Forza Italia. Dagli studi di Open, in compagnia di Massimo Ferrarese, spiega che voltarsi indietro non ha senso, perché i remake, anche dei vecchi film, non funzionano mai. Si farà, non si farà, come si farà, vedremo. Io, personalmente, sui revival e sui remake ho sempre avuto molti dubbi. Un partito che dovesse mantenere i caratteri di partito lideristico. Quando non sappiamo se il leader è ancora disponibile per altre battaglie, mi pare un po' anacronistico. Non credo che quella del ritorno alle origini sia un progetto, come dire, vincente. Insomma, Baldassare rappresenta quella parte del partito che mal digerisce un restyling che potrebbe significare solo nomi imposti dall'alto. Massimo Ferrarese esprime sorpresa e soddisfazione nella scoperta di una convergenza che ignorava prima di partecipare a Open. Il leader di Noi Centro, proprio domani, parteciperà alla riunione romana del PPE. È la notizia che una parte del PDL è pronta a convergere non solo a parole, non può che entusiasmarlo. Ma Baldassare si sbilancia anche sulle candidature alle regionali e afferma di essere favorevole a un'eventuale candidatura di Massimo Ferrarese a presidente della regione Puglia, nel segno del PPE, l'unico partito di respiro europeo, in grado di fare d'accollante per tutto il centro-destra, anche nel dopo Berlusconi. Io non credo alla personalizzazione per quanto la campagna elettorale punti poi sui personaggi, ma credo al progetto. Se noi facciamo in Puglia quello che abbiamo appena detto, c'è una vasta aria moderata che mette insieme tutte le forze moderate e riformiste, perché bisogna cambiarla la regione come il nostro paese. Allora, perché no, chiunque ha i meriti per aver fatto nascere un progetto di questo tipo e per aver dato vita ad una nuova esperienza che dia speranza a questa regione, può esserlo, quindi anche Massimo Ferrarese. Quindi posso azzardare che fra Schittugli e Ferrarese lei preferirebbe uno che aprisse anche alla parte del centro. Sono due amici. So che la metto in difficoltà così. Milita nel centro-destra, no, non sono in difficoltà, però forse rappresentano un'area che dovrebbe lavorare ed essere insieme alle prossime elezioni. Se lo avessimo fatto alle scorse, non avremmo avuto questi pessimi cinque anni di governo. Forse avremmo già dato una svolta a questa regione nella scorsa regionale. Le piace questa apertura, Presidente? Questa apertura è bella, no, da parte del centro-destra? Io l'apertura, cioè la pensa come me, nel senso che vuol realizzare quello che anche io, ripeto, ho detto tra virgolette il mio sogno, quello di realizzare un grande PPA italiano. Motivo per cui ho pregato i miei amici a livello nazionale di cercare di fare in fretta, perché stiamo anche in ritardo, per affrontare, per arrivare poi chiaramente a... Massimo, secondo me non è un processo semplicissimo. Non è semplice. Soprattutto non è semplicissimo, non è un processo che può prescindere dal centro-destra attuale per avere successo, il quale naturalmente deve cambiare per poter entrare in questo discorso. Ferrarese vuole mettere a frutto subito queste convergenze, ma spiega di non essersi candidato a niente. Del resto, le candidature alla presidenza della regione, fatte nei periodi estivi, rischiano di bruciarsi, e non solo per il caldo a foso. Le autocandidature, fatte con largo anticipo, rischiano di bruciarsi al sole. Si pensi a quella del sindaco Emiliano, oggi insidiata da un'eventuale terza candidatura di Vendola, oppure a quella del presidente Schittulli, recentemente sempre più osteggiata da alcuni politici di spicco del PDL, nonostante la benedizione di Fitto ricevuta qualche mese fa.